facciamo giù adesso vi faccio vedere come si pulisce un cavolfiore e poi come si cucina innanzitutto togliamo tutta questa parte che non dobbiamo andare a cucinare vedete andiamo di qua poi che faccio vado a fare una specie di incisione vedete e adesso vado a prendere praticamente il frutto e l'intero che mi serve nella quantità che devo andare a utilizzare vedete questa quantità a mio modesto parere per quello che devo fare basta ci metto il basilico perché gli da un profumo spettacolare e poi vi faccio vedere come vado a denocciolare le olive taggiasche ci vuole uno strumento metto qui guardate sono poche olive ne vorrei finire in modo tale che poi vado ad acquistarne altre però voi sapete che in cucina a casa mia non si deve buttare nulla quindi tutto va consumato spero che lo facciate anche voi anche perché in questo periodo di crisi bisogna anche un po' essere responsabili ecco qua basilico cavolo che adesso poi vado a sciacquare e olive denocciolate ciao a tutti a dopo ciao a tutti ciao a tutti